Questa è la squadra giovanissimi regionali annata nel 1997 dell'Abbano Calcio, siamo ad Abano, lo stadio delle Terme, io sono Corrado Ferro, il loro allenatore, farò una piccola dimostrazione, un allenamento dimostrativo sul controllo orientato, partiremo da una situazione semplice, una palla a testa, poi passeremo a coppie, qualche esercizio a tre, a cinque e infine un esercizio di controllo. Questo è un esercizio preparatorio, è una semplice guida nello spazio, così vicino a vivere la roba, ora faccio la palla all'interno, Gio il jusqu' era il sol di mezzo, inタ Prepago, da ragazzo grazie a tutti, ovviamente continuiamo a poivare l'uomo per usare le C3P. La terza lunghezione, sia per usare le 3 ideally, palla. Chiaramente questo non è un esercizio per il controllo orientato, diciamo che è un esercizio propedeutico, diciamo a loro di stare molto attenti quando si tratta di spostare la palla e seguirla, quindi la seconda fase del controllo orientato. Nel controllo orientato devo riuscire a metterci la palla, dopo la devo seguire in modo efficace. Aumenta un po' il ritmo, tenete la palla più vicina, spostatela di più, interno e esterno, sposto e la copro, sposto e la copro, sposto e la copro, perfetto, stop, bravi, esercizio successivo, palleggio, controllo, interno e esterno, contropalzo e copro, vai, due palleggi, due o tre palleggi, non di più, vai, copri rapido e vai, via Andrea, comprile rapido, comprile rapido, comprile rapido, andiamo, andiamo, prendete spazio, c'è spazio qua, puttana, vieni, rapido, rapido, facciamo l'interno, l'esterno, chiede meno abito, buono, vai, bene, 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 stop, perfetto, deciso successivo, a coppie, vicini, semplici passaggi, anche questo lo prepariamo, loro si mettono a coppie, fanno dei semplici passaggi, palla a terra, dai dai dai, palleggia, palleggia per conto tuo, semplici passaggi, stanza giusta a 3-4 metri, Andrea, Giallo mettiti qua così ti vedo bene, bravo, vai, 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 adesso hanno la distanza che vogliono, ricevono palla, ricevete palla, controllo orientato, vai, ricevo palla, sposto e gioco al compagno, ricevo, sposto e gioco al compagno, la distanza la servono loro, non c'è nessun ostacolo da superare, non c'è distanza da tenere, si regolano da soli, l'importante è dire che ricevono la palla, non deve mai essere ricevuta davanti, ma deve essere sempre spostata, ok, usano l'interno, l'esterno, il piede più abile, il piede meno abile, bene, vai, anche di esterno posso ricevere, vai, anche di esterno, la palla è in direzione di corsa, me la metto avanti, metti avanti, vai, vai, in direzione di corsa, vai, in direzione di corsa, vai, in direzione di corsa, buono, vai, in direzione di corsa, vai, in direzione di corsa, solo in dannoquiere, in detail, ma sbaglio possibilmente solo in dannoquiere, mette in controllo anche di esterno Ok, adesso diamo delle direttive ben precise, loro faranno un controllo che noi chiamiamo chiuso, ovvero sia se ricevono palla nel loro lato sinistro la portano verso il piede destro e passano col destro, un controllo che noi chiamiamo aperto dove si usa lo stesso piede, se ricevono a destro aprono verso destra e rigiocano col destro, stessa cosa con l'altro piede, ok, bravo, chiuso, loro decidono in modo autonomo cosa fare, perché è la situazione di partita che gli deve far decidere se fare una cosa o fare l'altra, riceve, chiuso, bravo, aperto, chi lo ha scelto, aperto, chi lo scegli, bene bene coprilo, chiuso, chiuso, vai, bene vai, chiuso, questo, chiuso, forse un po' di più, aperto, buono, chiuso, ok, questo è un altro tipo di esercizio, c'è a coppie, c'è un passaggio interno, un giocatore fa solo passaggi dentro lo spazio, l'altro fa solo controlli aperti, verso fuori o destro, veloce via, ricevele, bene bene, dalla dentro lo spazio, continua, continua, ok, fino a passa dentro, tu controllo aperto, bene, vai, controlla, metti dentro, buono, controllo col sinistro aperto, bravo, vai, recupera, recupera, buono, col destro aperto, col sinistro aperto, ancora, vai, 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 ok, stop, lavora l'altro, via, vieni, postati indietro Matteo, buono, vai, passa dentro, fuori, rapido, passaggio interno, ricevo dentro lo spazio, porto fuori, usa piede giusto, solo controlli aperti, bene, solo controlli aperti, stesso piede, sposto col destro, passaggio col destro, sposto col sinistro, passaggio col sinistro, bene, bene, vai, apri, buono, vai, sì, vai, sì, buono, vai, sì, ok, esercizio successivo, controlli chiusi, d'accordo, questa roba, questa cosa, facciamo palla, facciamo palla, facciamo palla, facciamo palla, facciamo palla, facciamo palla, rapido, qua c'è una misura, c'è un ostacolo, c'è uno spazio da riuscire a prendere, c'è uno spazio da evitare da chi fa l'esercizio, bello, bene, vai, cambio piede, riposto con uno, e via con l'altro, vai, rapido, rapido, continua, 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 via, fare, questo è un altro esercizio a tre, praticamente è una staffetta, palla, un giocatore porta palla, dà la palla, dato in stop, controllo orientato, lo porta via, ok, cerca di evitarlo, chiaramente il giocatore dopo il passaggio diventa attivo, ma lascia giocare, va solo a chiudere nella corsa, usa bene il piede giusto, Simon, via, vicende palla, porta via, come puoi portare via questa palla in controllo orientato, sempre come abbiamo visto prima, o con controllo aperto, oppure chiuso, scambiando il piede, oppure usando lo stesso piede, l'importante è che la palla sia giusta, nella direzione di corsa, bene, si, porta via, buono, controlla la lascia a scappa, cerca di essere rapidi a riprenderla, buono, vai, serve, porta via, si, bravo, vai, ok, stop, continua, continua a riprendere, altro esercizio, stop, questo esercizio, do palla, faccio sfonda, lo rendiamo un po' più difficile, qui, da, vengo da te, ok, venga, vengo da te, ti do la palla, non ti vengo a pressare subito, perché tu mi farai la sponda, e io ti vengo a pressare, ti do un secondo passaggio e ci sono addosso, una volta ti va a pressare, va, diciamo, abbastanza, eh, abbastanza cattivo, ok, proviamo a farlo, vai, passione, Federico, vai, parti, fai una sponda, fai una sponda, 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 pede, adesso cattivo, sto a proseguire, buono, portare via, porta, passa dietro, passa dietro, continua, buono, eccolo, sponda, sul secondo tocco, vado via veloce, buono, primo tocco, seconda, sul secondo tocco, dai, è cattivo, via, fare anche gli altri, primo tocco, rapido dopo, sempre il controllo orientato uscire, primo tocco, aspetta il movimento, vai, buono, via, dobbiamo, dobbiamo capire che se è possibile lo saltiamo col controllo orientato, ok, portala via, via, primo tocco, secondo il controllo orientato, porta via, bene, vai, buono, portala via, da, ancora, continua, continua, primo tocco, secondo, via il controllo, buono, usate il piede giusto, eh, diversi di voi usano il piede errato, se ce l'avete di qua, se volete portarlo aperto, usate il piede giusto, vieni, continua, vai, vai, portala, portala, buono, dai, controllo lì, sì, primo tocco, secondo, porta via, buono, andiamo, hop, sì, sì, vai, ancora, va bene, stop, perfetto, ok, un altro tipo di esercizio, siamo in cerchio, una cosa abbastanza semplice, la palla dall'esterno va all'interno, con l'interno controllo orientato e la porta via, dai, facciamolo meglio, un po' più veloce, buono, porta via, buono, adesso, come concetto, si può inserire anche un controllo orientato e girarsi verso di schiena in direzione opposta da dove ricevo palla, poi ne daremo noi delle delettive, sì, toccala, toccala, fate due, uno, bravo, sistema, buono, vai, sì, non soprire palla, non soprire palla, viene sempre davanti, buono, vai, ok, stop, lavoriamo, allora, attenzione, levo, obbligatorio girarsi, quindi se dicevo palla da qua, io devo girarmi verso di schiena, controllo orientato, non con la finta, quindi dicevo palla, io sempre, apro e vado da sta parte qua, scelgo, gruppo di qua, d'accordo? Tu verrai il centro, stessa roda, la palla una volta andata di qua, non con la finta, non con la finta, non con la finta, obbligliamo la squadra a girarsi, ok, proteggere palla da un ipotetico, guardatore, giro, ok, orientato bene e vado, vai, vai, giro, gioco, veloce, veloce, dentro e vai, sì, buono, può giocare anche qua, buono, vai, sì, giro di schiena, giro di schiena, giro di schiena, buono, e gioca, vai, sì, sì, rapidi, proviamo a fare un tocco solo da fuori, un tocco solo da fuori, eccola, vai, dove tocchi in mezzo, tocco solo fuori, bravo, gira, e vai, buono, giro, bene, vai, sì, bene, giro, sì, ok, sì, ok, stop, lavoriamo ancora, adesso non voglio più che vi, rapido, giro, giro veloce, veloce, vengo e vai, rapido, giro, buono, scelgo, buono, rapido, scelgo uno dei due, rapido, dai, girare, 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 rapido, buono, vai, dai, rapido, e gioca, un tocco solo da scappare dentro, più veloci chi entra, quelli che entrano più veloci, dai, quelli che entrano più veloci, vai, non girarti, vicino, in fianco a lui, o i due di sinistra, o i due di destra, buono, sì, vai, rapido, scelgo uno, rapido, cambio piede, da destra o sinistro, cambio piede, spostate di più sta palla, buono, vai, cambio piede, da, scelgo il destro, vai, chiudo, cambio piede, buono, stai sclusando quasi tutti i stessi piedi, eh, cambio piede, da, vai, cambio piede, buono, sì, rapido, scelgo, cambio piede, da, bene, spostatela di più sta palla, dal destro me la porto a sinistro o viceversa, dai, hop, rapido, buono, via, sì, hop, sì, hop, buono, sì, bene, vai, ok, hop. Ecco un altro esercizio, 5, 5 giocatori, 3 da una parte, 2 dall'altra, in mezzo, uno riceve, blanda, blanda la marcatura, blanda la marcatura del giocatore dietro, riceve palla, porta via il controllo orientato, la gioca sul lungo, va a marcarlo, chiudilo, buono, vai, becca sul secondo, buono, e vai, bene, sì, cambio posto, vai, bene il controllo, bene, porto via bene la palla, siamo, questa è fatta in forma blanda, passaggio semplice, rettilineo, stop, attenzione, adesso, voli, vieni contro, vieni contro, muovi, e vai via, dai, vieni, buono, sì, porta via Andrea, andate più incontro a sta palla, bene, vai, e gioca, si pina, si pina, cattivo, pina, buono, e gioca, via, si taglia, si taglia, buono, e ricevi, buono, vai, bene,